Ciao a tutti, in questo video parliamo del decimo compleanno di Bitcoin. Il 3 gennaio 2009 c'è stata la prima transazione appunto sulla rete Bitcoin e quindi è la prima transazione che dimostra che appunto è nato il primo sistema decentralizzato di scambio di valore digitale. E appunto oggi molte persone in giro per il mondo si troveranno per festeggiare questo avvenimento. Molti sono negli Stati Uniti o in Europa, vi lascio poi il link in descrizione se vi interessa. Tuttavia appunto Bitcoin è una tecnologia decentralizzata e purtroppo molte persone ancora non hanno ben chiaro cosa questo significhi e cosa questo comporta. E quindi volevo anche citare questa cosa che è accaduto ultimamente. Uno dei più utilizzati light wallet di Bitcoin, appunto Electrum, ha avuto questo problema ultimamente dove appunto alcune persone hanno visto questo messaggio che appunto sembrava un messaggio effettivo di questo wallet Bitcoin che li spingeva ad aggiornare e installare questo nuovo wallet Electrum. Purtroppo, e diciamo, chi è che utilizza Bitcoin dovrebbe essere cosciente di che cosa fa, questa è una cosa molto importante. Electrum è un client Bitcoin che si collega a dei nodi pubblici Bitcoin. Quindi noi per essere veramente sicuri della decentralizzazione dovremmo utilizzare appunto un wallet che contiene effettivamente la blockchain Bitcoin. Tuttavia molti per praticità o quant'altro preferiscono utilizzare un wallet light però forse non si rendono conto delle implicazioni di sicurezza che questo comporta. Quindi le alternative sono appunto utilizzare un hardware wallet tipo il Ledger Nano S dove appunto le chiavi private non stanno nel computer oppure utilizzare un computer a parte dove appunto c'è la blockchain Bitcoin. Tuttavia appunto molti non hanno utilizzato queste accortezze e si sono visti questo messaggio inviato da questo wallet ufficiale e hanno seguito le indicazioni per aggiornare questo wallet. Il problema è che questo wallet in realtà si trattava di un wallet malevolo che appunto poi andava a prendere le chiavi private sul computer delle persone. Qui appunto è stato aperto un bug. In realtà non è un vero bug di questo light wallet perché appunto la caratteristica del light wallet è che si collega a dei nodi pubblici. Tuttavia noi non dovremmo dare per scontato che i nodi pubblici di Bitcoin siano benevoli e quindi appunto non dovremmo prendere sempre sul serio quello che ci viene detto da questi nodi pubblici. Il che non ha niente a che vedere appunto con gli sviluppatori di questo wallet. Quello che è stato fatto per mitigare questo bug dove comunque alcuni hanno installato questa versione di questo wallet e hanno perso i Bitcoin che contenevano e l'alternativa è stata quella appunto di mostrare il messaggio che proviene da questi nodi pubblici Bitcoin in questo modo, in modo tale che sembri anche un po' meno ufficiale. Però appunto se noi utilizziamo una criptovaluta dovremmo anche capire come funziona prima di utilizzarla. E appunto tenevo a sottolineare questo aspetto della decentralizzazione perché appunto se uno non capisce come funziona una criptovaluta può andare incontro a questo tipo di problematiche. E appunto le alternative sono quelle di utilizzare le criptovalute in modo consapevole capendo che questi tipi di errori potrebbero anche essere falsificati se andiamo a, come dire, collegarci a una terza parte della quale non ci fidiamo. E quindi giusto per fare un esempio questa è stata, se noi andiamo sui block explorer pubblici in questo momento noi ci stiamo fidando di una terza parte e nel caso di bitcoin qui abbiamo appunto la prima transazione fatta appunto nel blocco zero e se andiamo a vedere questa transazione effettivamente ci viene detto che è stata fatta il 3 gennaio del 2009. Ovviamente queste informazioni potrebbero essere state come dire, scritte in modo arbitrario da questo sito blockchain tuttavia queste informazioni le troviamo scritte anche su altri block explorer questo ovviamente non, come dire l'unico modo per verificare che una transazione sia effettivamente accaduta sarebbe quello di avere la nostra blockchain bitcoin locale però in alternativa possiamo provare più block explorer per vedere se effettivamente le informazioni corrispondono e appunto vi voglio far vedere questa transazione che appunto nella prima transazione abbiamo questa frase che è stata scritta appunto in esa decimale che poi convertita viene scritta in questo modo qui che appunto denota la prima transazione fatta sulla rete bitcoin e questa frase viene estrapolata da un articolo del times del 3 gennaio 2009 quindi per dare anche un altro modo per appunto dimostrare che la rete bitcoin è effettivamente partita in questa data e da allora appunto questa informazione è stata scritta per sempre sulla blockchain quindi questa è l'informazione questa è appunto coinbase oppure viene definito input script e quindi se noi copiamo questa informazione possiamo verificare che effettivamente è la stessa anche sugli altri block explorer che convertita in da esa decimale a testo effettivamente corrisponde a queste informazioni quindi quello che si dice nel mondo bitcoin è sempre don't trust, verify e quindi molte persone trovano ancora il mondo delle criptovalute e di bitcoin difficile e che dire per alcuni tipi di persone effettivamente questo tipo di mondo è ancora difficile quello che vi posso dire è che anche internet quando iniziato era una cosa molto ostica questo è il primo browser che appunto si chiama mosaic anzi si chiamava perché non viene più sviluppato e questo browser è partito nel 1993 però da allora al primo utilizzo diciamo di massa di internet con facebook sono passati anche qua 10 anni anzi 11 facebook è nata nel 2004 e mosaic è nato nel 93 quindi questo per dire che tutte le tecnologie veramente di grande portata impiegano diverso tempo prima di essere veramente pronte all'utilizzo da parte di tutti e quindi appunto questo era appunto per contestualizzare questo tipo di tecnologia che spesso non viene vista più che altro dal punto di vista speculativo in realtà appunto è una tecnologia che nel bene e nel male funziona da 10 anni e lo stesso non si può dire per molte tecnologie che magari partono fanno il boom un anno e poi non se ne sente più parlare e se volete ancora verificare effettivamente questo titolo del Times è presente e qui viene appunto datato 3 gennaio 2009 e appunto le frasi sono estrapolate da questo titolo qui che vedete e tra l'altro già allora si parlava di pompare diversi miliardi nell'economia e quindi alcuni hanno interpretato diciamo questo lancio di bitcoin anche come un sistema per difendersi dall'inflazione che diluisce il valore del denaro però appunto questa qui è una considerazione fatta parte voi potete tranquillamente valutare questa frase scritta sulla blockchain come meglio credete e con questo vi saluto se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti